Tra i convenevoli di ogni inizio nuova stagione, la razione militare, sperando che ci vada meglio dell'anno scorso perché la precedente spagnola faceva particolarmente schifo e quest'anno in compagnia anche delle vostre unpopular opinion avevo lanciato la proposta nell'ultimo video di Arrivederci prima di salutarci per le vacanze. Ah è sempre dal mio video di Arrivederci di inizio agosto grazie anche per l'attenzione riservata al mio annuncio per una nuova band, al momento sto facendo propedeutica con un paio di voi che si sono proposti, c'è solo uno strumento che non è saltato fuori tra le varie proposte ovvero la batteria, servirebbe un batterista. Ma ne parliamo di nuovo a fine video, nel mentre ti avviso sin da ora che ho lasciato un link aggiornato all'annuncio originale, grazie. Il video di oggi è in collaborazione con gli amici di X-Vive, li vedemmo qui per la prima volta con il jack wireless U2, ebbene oggi la loro famiglia si allarga. Con A58 la nuova generazione di jack wireless a frequenza 5.8 GHz, una gittata che aumenta del 50% coprendo fino a 30 metri in spazi aperti, compatibile ora anche con gli strumenti attivi. E le garanzie di una frequenza, la 5.8 GHz, assai meno battuta dai dispositivi Wi-Fi tradizionali, con redatti di praticissimo case e diffusissimo connettore di ricarica USB di tipo C. Grazie a X-Vive quindi, con cui si è instaurato nell'ultimo anno un'ottima collaborazione e lieto di aver visto questa evoluzione di quello che già era l'ottimo fratellino minore a 2,4 GHz. Come al solito trovi tutti i riferimenti con i link in descrizione e rimandi anche ai negozi fisici in tutta Italia, perché distribuito da Mogar. Avete risposto in parecchi, alcune un po' più prevedibili, altre meno. Stavolta sono riuscito a trovare una razione che promette assai meglio per assortimento e per paese di provenienza. Unboxino al volo! Immancabile anche quest'anno la scrittrice a cui facciamo assolutamente scegliere quale vuole dei due. È dura, eh? Bistacco filling, oppure chili e macaroni. Io da brava italiana moderna che non mangia mai la pasta all'estero preferisco questo, evitare i macaroni. Ne hanno tipo una bentina diversi. Ce n'era uno che era troppo vincere facile con la pizza. Sono andato a impelagarmi con quelli un po' più caratteristici. Apriamo, vediamo un po'. Belli carichi. Speriamo soprattutto che si possano cuocere in una maniera più intuitiva a confronto al baracchino che ti danno gli sfagnoli. Allora, mi ve l'è indaffarata qua la faccenda. Mi sa che questo si mette a bollire con qualche soluzione chimica sullo stile di quella polacca, che fu la prima che portai in assoluto nel canale. Diamo una mano alla scrittrice che si è incartata già. Vedi che qua c'è tipo un taglietto al volo. Ma non è, si è provato a tirare lì. Ah, vedi che è la scrittrice, no? Che alla scrittrice danno sempre la cosa più difficile da fare, così poi passa per imbranatina. I dischi doppi, alla Tales from Topographic Oceans degli S, sono invecchiati come il latte, quest'ultimo peggio di tutti. Fatto sta che non è un mistero che questo formato sia caduto in disuso. Sì, è così alla luce del sole che anziché di un popular opinion parlerei di dato di fatto. E francamente non guardo con amarezza alla morte dei doppi album perché mi sono sempre stati sul cazzo, sin dall'adolescenza. Ok che l'arte è importante, ma anche il mio tempo è importante. E se vai oltre un'ora mi sento sempre più mancato di rispetto come ascoltatore. Va da sé che davanti a certi capolavori uno deve per forza passare. E grande eccezione va fatta per qualsiasi escursione nella musica classica, quello è proprio un altro mondo con altri criteri. Ma se di proposito, da dieci anni a questa parte, ti butti nei doppi album, beh, allora sei proprio uno stronzo. I pool sono una delle cose più rock and roll che la musica italiana abbia mai avuto. Red Canziane e Stefano Dorazio sono pesantemente sottovalutati come musicisti. Ascoltare gli album Rotolando Respirando, Tropico del Nord, o Dove Comincia il Sole, per avere prova di quello che dico. Cazzata colossale! E prima di risponderti ho voluto accertarmene di nuovo, sentendo anche il loro periodo Aor che effettivamente mi mancava, quindi ho sentito Tropico del Nord e Rotolando Respirando, trovando anche lì solo ulteriori confermi. I pool hanno affrontato sì generi nobili, ma portandosi dietro sempre le influenze peggiori. Ovvero quel gusto populista da italietta di provincia che prevede il cantato sopra ogni cosa, la monarchia assoluta della melodia e dei testi innocui, per arrivare a chiunque, preferibilmente fino a tua nonna. Tutta la loro musica è sempre stata subordinata al buon cuore, alla tenerezza, anche un po' al pietismo cristiano. E qualsiasi momento compositivamente più spigliato è sempre soffocato da questa consapevolezza di fondo che è Ehi, mi raccomando ragazzi, viva l'amore! Abbasso la droga, donate sempre un sorriso ai vostri vicini quando uscite di casa. Non dite mai di no a un bel bicchiere di aranciata. Fate contenta vostra madre e mettetevi la camicia perché vi vuole bene. Morire subito, bombe atomiche, distruzione del pianeta! E vi dirò di più, a parte l'aor, da cui ne escono come in una parzelletta, ma pure parlando di quel progressive pop di Parsifal ad esempio, e il progressive pop tendo a considerarlo un genere a sé, beh, sapete cosa vi dico? Che come genere va benissimo, un giorno farò un dischini dedicato al progressive liked che ha una grande dignità. Ma in Italia ci furono esempi migliori anche di quell'anfratto. E rispondo a un Parsifal con, sweet per una donna assolutamente relativa dei Dick Dick, delizioso, e il semi sconosciuto il grande gioco degli albero motore, entrambi superiori a un Parsifal o a un... un po' del nostro tempo migliore. Sulle capacità tecniche di Do di battaglia e Red Kansian non vado neanche a impelagarmi più di tanto, perché quando sei subordinato a quel regime totalitario del canterino a ogni costo, emergi fino a un certo punto e stare lì ad aspettare il momento in cui possono mostrare i muscoli è una perdita di tempo. Teneteveli pure i po'. Ok, dopo due minuti di riflessione abbiamo più o meno capito il meccanismo, sì, è come quelle polacche. Praticamente ti danno questa busta che ha questi agenti chimici che scaldano, ci infili dentro la tua portata principale con dell'acqua e va a bollirla. È una specie di reazione chimica. Iniziamo da quello della scrittrice, a cui ha dato qualche colpo di forchetta in più del necessario, bisogna aprirlo qua dall'alto e ora ci piazziamo dell'acqua e poi ci infiliamo dentro, direi, tutte e due le tue pietanze, per poi dopo adagiarle su un piatto. Signori, andando ben oltre il minuto di cottura qua indicato dal packaging, direi che è ora di piazzare su un piatto perché non trovo un altro modo sensato per mangiarlo bene. Questo chili and macaroni, farà altrettanto la scrittrice col suo, lo scoliamo qua in bella vista. Che merdone! Eh, beh dai, un gusto tipicamente americano che fai inorridire qua agli italiani. Minchia, c'hai le tortiglie, se c'hai! Non l'avevo vista! Stai cercando di sottrarmi questa box. Ma che spettacolo! Che vuoi? Tu hai la pasta e macaroni! Arriviamo quindi a questi favolosi primi, per la scrittrice mi sembra più un pasto completo, San Bernardo, l'acqua ce la dobbiamo mettere noi. Buon app! Premesso che me l'ha scaldato poco, certo entro dei gusti molto più tamarri da americani, questo senza ombra di dubbio. Approccio un po' alla messicana, del resto essendo chili. Concentratissimo di sugo, leggermente piccante. Comunque non è male al sapore di messicano col pumino. Il mio è un Tex-Mex, è un'unione tra i popoli il mio. Ma va ammesso qua ha vinto la scrittrice. Quanto fanno gola sti tacos, per quanto sugosi siano? Si parte alla grande, questo deve essere chiaro. Ottimo. Andiamo avanti con qualche altra vostra Unpopular Opinion. Io sono l'uomo delle Unpopular Opinions, ma ne metterò una sola. Il Progressive Metal fa vomitare e piace solo a chi lo suona, o a chi si fa le seghe per la tecnica. Ciao Gabriel! Qui mi mandi in dissonanza cognitiva perché da sempre il Progressive Metal è il mio genere metal preferito assieme al Black, ma è costellato di band di artisti per cui quello che dici è assolutamente vero. C'è un numero piuttosto nutrito di album e band in cui il messaggio ultimo che emerge è proprio la boriosità, l'alienazione da nerd. E non sto parlando dell'Olimpo noto a tutti, tipo i Dream Theater che amerò sempre, o che so, i Liquid Tension Experiment, i Queen's Reich, i Symphony X. No, mi riferisco a nomi forse più di nicchia, ma tanti. Tipo i Mekong Delta, i Watchtower, i Spiral Architect, gli Spastic Ink, pure certa roba dei Fates Warning. Lì è vero e ci sono molti casi di roba oggettivamente indigesta e onanistica. Si può quasi dire che metà del Progressive Metal ha i grassi saturi all'interno e l'altra metà invece ha buona digeribilità. Mi sento di chiuderla dicendo che è un genere molto eterogeneo a livello qualitativo, fatto di capolavori e di paccate in montagne russe come in pochi altri generi capita. Questo, sebbene io lo ami, è vero. Trovo ingiustificato molto dell'odio che viene lanciato verso i Nickelback, molte volte semplicemente per partito preso, soprattutto per il periodo di All The Right Reasons. Sono lontani dall'essere la mia band preferita, ma sempre meglio di gente come i Five Finger Dead Punch. Vero, verissimo. Figurati che ho in programma per questa stagione un dischini post-grange e dovrò far loro una menzione a parte, fuori classifica, perché hanno una reputazione ingombrante. Ben inteso, i Nickelback non sarebbero stati in nessun caso nel podio del post-grange, ma sono stati vittime, come pochi, dell'internet e il bullismo nei loro confronti ha lontane radici, che poi si sono però calcificate e hanno fatto perdere di ogni oggettività la percezione nei loro confronti. Qualche mese fa, Danny Metal, i più lo conosceranno, ha fatto un bel video sui Nickelback, che vi consiglio e in cui emergono le cause di quel bullismo, di quel memismo sconfinato. I Nickelback come il Comic Sans, come Internet Explorer 6, come le Crocs, vi ricordate? E pare che inizio tutto a inizio anni 2000 era un periodo in cui erano così in heavy rotation nelle radio americane, da portare alla nausea, suscitando delle battute al vetriolo di un comico famoso allora, arrivate nel momento di Apice, e che creò quel clamoroso effetto domino sull'onda di quella saturazione mediatica. Poi il frontman con gli anni ci ha messo un po' del suo, fu accusato di misoginia, di macismo o becero. Forse è proprio portato all'esasferazione da questa pressione mediatica, probabile. Ma è indubbio che diventarono, soprattutto dieci anni fa, dei zimbelli dell'Internet, e che si sia trattato di un bullismo non così distante come fenomenologia da quello che subì Richard Benson qua in Italia. Ti confermo che Silver Side Up è un disco o quantomeno onesto, il resto non sono andato ad approfondirlo più di tanto, e che nel post-grunge c'è ben di peggio dei Nickelback. Mi vengono in mente i Live, i Creed o i Breaking Benjamin. Hai ragionissimo. Signori, per me è ottimo primo. Passo a un vero e proprio secondo che ho, o meno così mi è parso, dei cracker, è una cosa che più americana non si può, un attimino. Vegetable cracker, fin qua ci siamo, ok. Teriyaki beef stick, quindi la carne disidratata. Teriyaki sarà qualche salsa di soia, qualche spezia giapponese. E poi, penso questo sia da mettere nel cracker, crema al formaggio con jalapegno. E invece ho la crema al formaggio senza jalapegno, ma nessun tipo di cracker spalmabile, quindi la regalo a Andy. Allora, io mi apro sto crackerone, in realtà non è un crackerone, sono dei cracker, ma che non sono spezzati orizzontalmente, quindi un doppio cracker in sostanza. Poi, curiosissimo di questo stecco di carne disidratata. Guardalo qua. Mamma mia, concentratissimo, che spezia. Sono certo che la scrittrice vorrà dargli un morso. Sì, sono curiosa. Sembra un salamino beretta, particolarmente concentrato. Non è proprio disidratatissimo. Eh, eh, della consistenza proprio dei salamini, né più né meno. Sì, ma il sapore è strano, non lo trovo tanto buono, vedi tu. Eh, vedo che ci spingono tanto qua di salsa di soia. Eh, ma non so né di salamino, né di teriyaki, né di salsa di soia. È un po' proprio artificiale America. Sa di chimicanze in sostanza. Eh, sì. Sembra marmellata. Sembra una sottilità di cheddar, fusa e risolidificata. significata. Sì, sono contenta di non aver aperto il mio. Di livelli di ignoranza colossale. Vediamo se riesco a fare. Oh, porca troia. Si è sminchiato tutto. Pianala. A few minutes later. È tipo un cheddar, stile McDonald's, piccante, perché c'è già la pegno. Particolarmente salato. Di tutta la roba, è particolarmente sordido, da riconoscere. Non che faccia schifo. Ma senti che nel Nutri-Score è a livello Z probabilmente. Ah, ma devo dirvi anche del Teriyaki Bip. Confermo. È dalle parti di un Viewstar ma senti questo retrogusto che non si capisce bene se è salsa di soia o barbecue. Si capisce perché queste cose magari non attecchiscono qua in Italia. Sono particolarmente artificiali. Altre vostre un popolare opinion. Pino Daniele è il miglior chitarrista. Miglior chitarrista nella fattispecie? Nell'Italia degli anni 70? Ma anche no. Luigi Venegoni, Nico Di Palo, Alberto Radius, Franco Mussida per parlare solo di suoi coetanei. Pino Daniele va ricordato in un'altra dimensione ovvero per essere stato un grande e questo non glielo toglie nessuno compositore. Del resto nel suo ecosistema il cantato ha sempre avuto la precedenza sulla chitarra. E va ricordato anche per la sua grande visione di insieme e di arrangiamento dei brani quando magari altri chitarristi erano focalizzati solo sul proprio strumento e basta. Va altresì ricordato per essere stato uno dei più grandi e nobili cantautori italiani e per l'assoluta onestà nell'aver spinto così tanto le sue radici ovvero Napoli al punto da poterla esportare all'estero quella città contro ogni aspettativa. Quindi un grande cantautore un rispettato jazzista è un po' dopo un consapevole chitarrista. Nonostante abbia ascoltato negli anni passati e continui ad apprezzare i Pink Floyd ma mi rendo conto essere un esempio troppo basico per considerarsi valido e non riesco a comprendere a pieno l'aura di santità del progressive rock classico degli anni 70 salvo alcune accezioni come i King Crimson e qualcosa dei Genesis lo trovo estremamente prolisso e manieristico al punto da risultare fastidioso e presuntuoso e non ritrovo il ricambio generazionale per il quale al di là delle indiscutibili innovazioni tecniche e sonore portate avanti qualcuno della mia età 21 anni li dovrebbe riscoprire questo genere preferisco di gran lunga non solo il funk o la new wave e post punk poi ma soprattutto trovo molto più intelligibili le variazioni giapponesi come quelle della fusion anni 70 80 caro zoomer vada per certa roba prolissa che ci fu nel progressive degli albori che comunque fu molta meno di quella che si manifestò nel neoprog nel progressive metal ma aggettivarlo come manieristico è un controsenso perché con tutta la potenza di fuoco che venne mobilitata allora è paradossale imbattersi così facilmente in manierismi ci fu molto più manierismo nel punk nel garage nel heavy metal nell'hard rock nel funk che tu menzioni come antidoto ma è ricco di manierismi e per manierismo io intendo un main act quindi un protagonista della scena copiato poi da vari gruppi in successione a cavalcarne l'ondata invece nel progressive ogni band chi più chi meno aveva un ecosistema a tutto proprio per fare qualche esempio i camel erano il viaggio i genesis il fiabesco i emerson lake and palmer il funambolismo il circense gli yes una popolazione aliena alternativa al pianeta terra i van der graf generator la fantascienza i soft machine la psicotropia e così via e così sarebbe fastidioso e presuntuoso dar frutto ad anni di studio ed edizione finché mantieni il rapporto con l'ascoltatore e non te ne freghi di lui pensando solo a segarti è legittimo e sacrosanto almeno metà della scena funk fu strettamente dipendente da quanto inaugurato dagli Sly and Family Stone o tutt'al più dai funkadelic il p-funk in particolare è uno dei generi più pentatonici mai esistiti e giustificato in parte dal suo fine ultimo che era quello di far ballare la gente non che sia un genere del cazzo ha una sua dignità ma giusto per far stabilire gli equilibri ultimi della natura vada per il post-punk che è un genere molto eclettico ma se parliamo di New Wave ad esempio si arrivò al mainstream creando tutto il manierismo che vuoi a una certa era New Wave persino la rettore Ivan Cattaneo Patti Bravo quindi insomma la fusion giapponese si è uno dei massimi esempi di tecnica votata alla digeribilità giusto ma proprio a partire da lei si può ben cogliere quanto il progressive sapesse nella maggior parte dei casi prendere per mano l'ascoltatore non dico sempre ma quando ci riusciva con gli intenti più nobili di tutti precludersi una così importante fetta di musica del novecento è come studiare storia e far finta che il settecento e la rivoluzione dell'illuminismo non siano mai esistiti comunque per quanto riguarda il mio prima di arrivare ai dolci dopo gli schiaffi la carezza con questo orange beverage powder quindi un succo d'arancia agliofilizzato in cui la vitamina C sarà sicuramente un miraggio però anch'io ma la mia non so perché è piccola beverage base orange quindi la tua è tipo la vichy che la metti direttamente nel bicchiere invece questo è il mio di bicchiere che correggeremo con della San Bernardo aiuto una cosa certa riguardando i loro complementi non mi viene in mente un piatto in cui si poteva utilizzare il sale perché era già tutto salatissimo di suo sento già l'odore di Powerade da qui guarda che colore è letteralmente i Gatorade però la variante quella un po' più discount che negli anni 90 era Energate o Powerade Powerade era migliore di fascia di prezzo aveva un ottimo assortimento c'aveva anche i gusti glaciali l'Energate invece era più da discount il mio è Energate con questa carezza di salute passiamo ad altre vostre un popolare opinion i Queen sono fra le band più sopravvalutate della storia la maggior parte del loro catalogo è mediocre hanno scritto 5 a 6 canzoni molto belle ma si farebbe molta fatica a riempire un singolo album di canzoni davvero valide persino più severo di me che salvo 3-4 album loro ma in linea di massima godo sempre quando si affossano i Queen e quanto sto godendo anche ultimamente che vedo questa wave che si sta creando anche negli altri canali mi è capitato di sentire in The Suckers o Rock for Rookies questo bellissimo Queen merda è catartico proprio quindi mi associo a te a tutti quegli altri che hanno messo like i Queen vantano una delle fanbase più becere della storia del rock orde di musicofili della Domenica che una volta scoperti Brian May Freddie Mercury pensano di aver raggiunto i massimi sistemi del rock di essere arrivati sulla vetta con una scorciatoia come se fosse inutile andare a spulciare tutto il resto tanto e pensare che dischi come Queen 2 Sheer Heart Attack A Night at the Opera sono di gran pregio ma che te ne fai a fronte di tutti questi danni che hanno creato culturalmente dagli anni 80 in poi ti sale l'astio e quindi tendi a mettere in oblio anche ciò che di pregevole fecero prima per ripicca se vuoi il fan dei Queen è metaforicamente il turista che scende a Venezia dalla crociera enorme con tutto il resto del gregge sta lì un paio d'ore a spanchinare fa zizzania prende al massimo due bottigliette d'acqua e così via ogni fottuto giorno per tutta l'alta stagione estiva e l'immaginario collettivo dei Queen a render necessaria la castigazione dei Queen e poi ricordiamolo per chi suona vantano uno dei bassisti più irrilevanti della storia del rock di peggio penso che ci sia soltanto il bassista degli S.E.D.C. anche i Pink Floyd soffrono un bel po' di questa gentrificazione di questa sovraesposizione mediatica che porta allo sputtanamento ma questa è un'altra storia e comunque ne soffrono un poco meno dei Queen che invece ne sono l'apoteosi totale come quando anche a Barcellona fanno le manifestazioni per mandare via i turisti onore a tutti i follower che hanno fatto svettare a suon di like questa un popular opinion in cima tra i commenti bravi tutti non ho mai stimato gli U2 né tecnicamente né dal punto di vista compositivo beh oddio gli U2 sono impossibili da stimare tecnicamente perché vantano uno dei chitarristi più paraculi della storia della chitarra ovvero The Age che ha fatto una carriera sul delay così massiccio così marcato da coprire qualsiasi possibile sbavatura non so se qualcuno aveva visto quel documentario uscito ormai 15 anni fa It Might Get Loud in cui intervistano The Age Jack White Jimmy Page e The Age ne usciva veramente piccolo premesso ciò gli U2 hanno fatto degli album assolutamente onesti questo devo ammetterlo quali il primo Boy poi War che è veramente delizioso e sta qui la beffa perché oggettivamente partì come gruppo rispettabilissimo una mia un popular opinion compositivamente furono superiori agli Smith ad esempio ma sputtanati negli anni totalmente dall'impegno politico in particolar modo da Bono il più grande radical chic della storia del rock anzi secondo il più grande radical chic alla prima posizione è Bob Geldof il più grande esempio di come politica e musica siano un connubio infido e che può portare a rendere intere carriere stucchevoli e moraliste non è nemmeno questione delle cause a cui si è dedicato tutte sacrosante grazie al cazzo la fame nel mondo in particolar modo l'AIDS in Africa ma a livello di forzatura che ha dato alla sua carriera artistica in favore dell'influenza politica per questo motivo a me penso a molti altri hanno rotto il cazzo e non è un caso che siano un cavallo di battaglia di Virgin Radio e sapete cosa dovete fare voi che ascoltate Virgin Radio signori arriviamo al gran finale arriviamo al dolce nel mio caso è un lemon poppy seed pound cake quindi torta con semi di limone lemon poppy eh limone e semi di papavero no? ah poppy seed ok poppy e papavero pardon io invece ho una specie di muesli con dischetti di cioccolato ma va che carino un tortino eh cosa gli puoi dire di male un plum cake schiacciato ho fatto a disco ma penso guardate le mie sono frutta secca uvetta è tipo smarties o M&M's ma che carino è meglio fa sì è carinissimo questo è buono no spettacolo questa questa è veramente ottima perché va di audacia a mettere più zucchero di quanto ne è solito mettere il marchio italiano quindi confronto a un plum cake come siete abituati metteci un 30% di zucchero in più salubre no efficace cazzo sì ma mi sa che qua hai vinto te quel mix M&M's nocci noccioline arachidi veramente spettacolo uvetta questo è proprio buono la fusion è il genere musicale scaccia figa per eccellenza mh mh vero soltanto per metà secondo me c'è una dissonanza cognitiva nei confronti della fusion soprattutto da parte delle donne anatomicamente hai ragione è un genere che soprattutto in america ha tirato fuori roba molto boriosa ma se guardiamo l'albero genealogico è pur sempre un figlio del Jets e una donna tendenzialmente guarda con fascino al Jets la vita notturna la strazione la scapigliatura la fusion giapponese poi è molto piaciona l'abbiamo imparato quindi secondo me ti riferivi alla fusion più accademica quando non sfocia addirittura nello shredding ma quella solitamente è meno percepita dalla donna casual che magari pensa a delle diramazioni più smooth Jets o alle giapponesate che dicevo ma continua a fare red pillato rispondendo con alcuni generi inequivocabilmente scacciafiga a ogni livello e a ogni latitudine il neoprog il power metal il kraut shredding progressive italiano vietato scopare un tempo era incel a manetta proprio anche il black metal ma da una decina d'anni per motivi misteriosi non è più così finito? quasi oltre ad arrivare alla digestione mi ero dimenticato di queste twizzlers nips candy sostanzialmente caramelle a gusto ciliegia ciliegia mi sembrano tipo le skittles quelle robe lì però mi sembrano più gommose l'altro c'è anche scritto low fat grazie al cazzo sono caramelle non è previsto che abbiano grassi sarà tutto zucchero però sono incredibili con il loro marketing eccole qui sì gommosissime più stile gelco aribo con l'andazzolino c'è un odore di finta ciliegia ne rubo una artificiosissime ma simpatiche dai fanculo c'è anche l'odio di palma mi spiace per te c'è colori artificiali sono cose che sempre in Europa pensi sono proprio vietate c'è lo sciroppo di mais quindi quello ad alto contenuto di glucosa e poi zucchero farina di frumento arricchita di niacina solfato ferroso quindi arricchita acido folico quindi arricchita di vitamine e minerali per fingere che sia alla fine qualcosa che fa anche bene al povero militare che secondo me si troverà solo la carie poi devo dire che il sapore è una caramella alla fine cosa devi dire ma per la digestione torniamo a noi perché non è previsto un digestivo vi ricordo che l'unica razione al mondo che prevede un digestivo è proprio quella italiana concordiale esatto ce la risolviamo a parte nel mio continuo tour tra i digestivi low cost dei discount passo a questo che è un cavallo di battaglia del Lidl amaro per romanetti forse il più economico che si trova tra i loro amari però in quell'economia hanno avuto spazio per mettere nel prezzo anche il dosatore incluso mica male a vederlo così ma potrebbe assomigliare a ramazzotti però andiamo di palato e vi saprò dire meglio si in effetti romanetti ramazzotti potrebbe essere si sono sempre ruffianissimi cercano sempre di alludere a qualcosa e secondo me si secondo me assomiglia a ramazzotti perché è più secco con fronte ad altri amari è più amaro proprio ha un gusto un po' più serioso quindi secondo me c'era un manierismo abbastanza voluto a me il ramazzotti piace parecchio occasionalmente si trova anche il ramazzotti alla menta che è anche un ottimo partito anche esso non sarà forse il migliore del Lidl il migliore del Lidl mi sa che rimane il Jack Stolz però scorrevole cosa vi vuoi dire l'amaro del golf è il migliore secondo me di quelli farlocchetti vero ma quello è dell'Eurospin ecco Scaruffi ne capisce di musica assolutamente sì laddove ci basiamo sulla quantità il suo sito ha qualcosa di sovrumano e in realtà il fatto che sia una figura superomistica si evince da tutte le altre discipline che tratta in quel sito perché c'è anche fisica filosofia scienze tecnologia arte un po' di politica è inquietante tutto il sapere immagazzinato in quel sito con quella affascinantissima grafica 1.0 rimasta inchiodata 30 anni fa spaccati certo poi è passato alla storia con le sue posizioni iconoclastiche e sicuramente ha fatto girare più le palle lui che io con i miei le orme BB King Brian Eno ma come non essere riconoscenti alla quantità immensa di musica che ha immagazzinato un giorno dovrò fare una live reaction ai suoi top dischi della storia del rock e ci sarà da ridere perché lui è un grande zappiano e soprattutto incensa un saccolo slowcore che è uno dei generi che più mi fan cagare di sempre però massima riverenza nei suoi confronti devo ammetterlo l'unico che sa più di skinny di Andy Cale e che mai riuscirò a equiparare signori siamo arrivati alla fine di questa reazione militare ringraziando la scrittrice per la gentile partecipazione direi che questa si piazza comunque bene al di là dei valori nutrizionali e al di là della dieta insalubre io la metto penso seconda in tutte quelle che abbiamo provato a inizio di queste stagioni prima mi ricordo soltanto la polacca che è in grado di spodestare l'americana dal polio io forse la metto prima perché la polacca mi ricordo che mi era piaciuta ma ormai l'ho rimossa non mi ricordo più cosa c'era di cosa sapeva questa devo dire è stata molto soddisfacente quindi potrebbe anche andare al primo posto sono passati un po' di anni in effetti l'importante è che non prendiate quelle spagnole che invece fanno oggettivamente cagare e con oggi siamo arrivati alla fine prima di chiudere dicevo all'inizio quindi servirebbe ancora un batterista le porte sono aperte e la situazione si fa un pochino più trattabile sì perché stabilita una presenza web e un'attività video con altri due componenti anche se avrai una parte un po' meno attiva nel videomaking e sappiamo come sono fatti i batteristi uomini di mondo beh potrebbe andare bene lo stesso però minchia mi auguro che almeno un banale profilo instagram ce l'avrai comunque i contatti sono sempre gli stessi ovvero instagram oppure la mail trovi poi il link qua sotto con l'annuncio aggiornato su misura del batterista che rimane da cercare grazie per essere arrivato alla fine di questo video ci vediamo tra una decina di giorni e rientriamo un po' nello spirito della stagione con un dischini e poi a seguire restauri insomma tutti i cavalli di battaglia qualsiasi aggiornamento su instagram per oggi è tutto a presto a presto